Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati qui con un nuovo episodio di Minecraft, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quello che mi scrivete e mi dite nei video precedenti e soprattutto per il supporto, signori. Allora, noi nell'ultimo video ci siamo lasciati qui, in questa bellissima caverna, ho distrutto tutto il muschio lì e l'alberello che non mi serviva a niente, questi non li posso prendere, è vero o no? Perché li prendo l'accia della Redstone, ottimo. Allora, signori, nello scorso video ci eravamo lasciati qui con l'Henderman che fa sempre la breakdance, ma a noi non ci interessa più di tanto. Allora, signori, procediamo alla scoperta di questa caverna, allora di qua si scende, di qua si scende, me la metti una truccina lì? Sì, di qua si scende, ma di là si cammina in maniera retta, quindi direi intanto andiamo in maniera retta, giusto pulito, pulito, sano sano, tranquillo, vediamo se riusciamo a trovare altro, qualche altro materiale che ci può servire. L'accia del ferro, ma è altissimo, non ho come arrivarci, non ho abbastanza terra per arrivarci, non mi va di mettere blocchi su blocchi per arrivare là. Vorrei intanto però arrivare in questa zona di qua, senza guardare l'Henderman, perché già mi è bastato ieri che ci ha ammazzato malissimo, e recuperare qualche altra di queste spore, signori, perché per quanto non danno nulla, però sono mangiabili. Qui abbiamo della redstone che potremmo recuperare, ma che non recupereremo perché siamo bravi, più che altro perché ci serve il piccone in ferro, signori, e attualmente non ce l'abbiamo. Dovremmo andarlo a, questa non me lo fa prendere, dovremmo andarlo a craftare, cuocere il ferro, fare dire, ma non ce l'ho voglia, voglio esplorare. Uh, ho dato altro ferro, che botta di natiche, che botta di natiche, mettiamo dei blocchi da costruzione qui, così, così, qui chiudiamo un attimino, perfetto, e possiamo recuperare sto ferro senza che si allaga il mondo. Me lo dai sto ferro? Grazie, gentilissimo. Ce n'è altro? No, l'abbiamo preso? Sì, sette pezzi, ok. Ok, là ce n'è dell'altro ferro, ok, recuperiamo. Siamo caduti malissimo, provatevi questo, grazie, ora di qua arriverà l'acqua come se non ci fossero domani. Bene, ma non interessa recuperare sto ferro, quindi dai, dai, dai. Signorio, purtroppo scusate la voce è rauca, ma purtroppo è da qualche giorno che sono raffreddato e quindi ciò mi porta ad avere questa voce così, molto da doppiatore di film, di film brutti. Eh, perché, dico, nessun doppiatore ha questa voce così brutta, quindi raccogliamo di buono buono e abbiamo un po' di cibo. Io sto girando a vuoto. Ah, vero, là avevamo il geode da andare a visitare. Qua abbiamo del rame che non mi serve, della redstone che non ci serve. Oddio, effettivamente potremmo un attimino investire un po' del ferro che abbiamo trovato per prendere anche un po' di redstone e fare un po' di esperienza, più che altro. Andiamo a prendere queste bacche, signore, che sono inutili. Anche perché a casa nostra non abbiamo dove metterle queste bacche, però, no, oddio, le potremmo mettere le nostre bacche. Queste bacche, che posto carino. Mi metti però una torcia, grazie. Le potremmo mettere che scendano tutte dalla base della casa. Però è tutto così sta grotta, ma che gran cacata di grotta. Non stiamo trovando niente di interessante, signori. Oddio, attenzione, attenzione, mai dire mai. Niente, l'oasi è così, è tutto qua. Mi avete suggerito nei commenti di farci una base. Una base. E la potremmo fare... Sto scendendo senza sapere dove stiamo andando, signori. Ma il bello della scoperta è questo. Avventurarsi. Avventurarsi e scoprire sempre cose nuove. Ma mi sa che qua non c'è proprio nulla da scoprire. Qualcosa mi dice, o come il sentore, che qui non ci sia nulla da scoprire. Sì, siamo finiti in un punto morto, signori. Siamo finiti in un punto morto e anche il cibo sta iniziando a scarsaggiare e anche le torce. Questa cosa non è buona per nulla. Riusciamo a risalire da qua? Forse sì. Dai, dai, risaliamo da qua. Non ci perdiamo tempo. E continuiamo l'esplorazione, signori. Vediamo di riuscire a trovare qualcosa di utilizzabile. Allora, di qua riesco a saltare. Sì, ok. Qua c'è i blocchi, mettiamoli così. Saliamo velocemente. Ok. E torniamo su. Qui dove siamo? Di là dobbiamo andare. Quindi andiamo così, andiamo così, andiamo così, andiamo così. Sto cascato. Ok. Ok. Ok, un par di ciufoli perché sono un attimino perso e confuso. Quello è ferro, sì. Quello di lì è ferro. Perché non l'abbiamo preso prima? Me lo sono perso, mi sono perso quel ferro di lì. Qui c'è un pesciolino morto. C'è un pesciolino morto alla cascata di lì e là c'è tantissimo ferro. Forse di qua non ci siamo passati prima, signori. Perché guarda cosa c'è qui. Bello tutto questo ferro. Dai così. Dai, dai, dai. Via, 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 via. Prendiamo anche questo blocco. Allora, signori, quasi quasi, per non sapere né leggere né scrivere, io mi farei una bella fornace e inizieremo a farci qualche strumento in ferro. Che dite? Così, da un attimino ad essere più coperti, vorremmo farci anche un picconcino di ferro. Io direi di sì, signori. Senza indugio, senza paura. Abbiamo 17 pezzi di ferro e non abbiamo paura di usarli, signori. Allora, crafting table qui. Dai così. Abbiamo la crafting table. Facciamo una fornace. Ok. Fornacetta qui. Mettiamo a cuocere 1, 2, 3. Facciamo così. 9, 10 pezzi, dai. Facciamo a cuocere 10 pezzi. Anzi, ne facciamo cuocere silico. Beh, 2 poi ci resteranno scotti perché abbiamo il... Perché un pezzo di carbone ne cuoce 8. Quindi 2 ci rimarranno scotti. Qua c'è tantissimo ferro. Bello. Bello così. Dai, 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 dai. Recuperiamo, recuperiamo, signori. Ci serve tutto questo ferro. Dai, recupera, recupera. Poi lo faremo cuocere giusto a casa. Io non so a che altezza siamo. Potremmo provare a tentare la missione diamanti, ma penso che siamo ancora alti. Di là si scende. Io però ho visto altro ferro qui, se non sbaglio. Può essere? No, di qua stiamo a salire troppo. No, 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 no. Era qua sotto quello che avevamo visto e che abbiamo lasciato. Mi metti una torcina qui. Grazie. E qua il ferro? No, niente. L'ho perso. E là il ferro? Chi cerca trova, signori. Ricordatevi sempre. Chi cerca trova. Chiudiamo qui, chiudiamo qui. L'abbiamo chiuso malissimo, però va bene. Recuperiamo questo ferro. C'è solo sto blocco? Sì. Meglio di niente, signori. Meglio poco, ma qualcosa. Allora. Io direi, torniamo senza vomitare dove abbiamo messo la nostra crafting table, che dovrebbe essere di qua. Può essere? Di qua la nostra crafting table? La nostra fornace? Sì. Che già ha cotto tutto? Bello così. Dai così. Questi li recuperiamo, li rimettiamo qui. Questa la smontiamo. Rimettiamo questo. Io direi, signori, prima di tutto, due già ci levavamo, ci facciamo il piccone. Così passiamo all'era del ferro e non se ne parla più. Basta questi picconi di pietra. Già hanno rotto le scatole. E poi con questi riesco a farmi... No, me ne manca uno! Mannaggia! Mi manca un blocchettino per farmi la corazza. Mi manca un blocchettino per farmi la corazza. E vabbè. Rischiamo, rischiamo, signori. Noi siamo dei tipi che gli piace il rischio. Gli piace il rischio. Gli piace il rischio. Dovremmo anche... Mangiamo un panino, mangiamo un panino. Dobbiamo essere cauti nelle nostre risorse. Allora, avevo visto che di qua si poteva scendere, se non sbaglio. Dove abbiamo recuperato il ferro. Di qua si scendeva da qualche parte. C'era un'insenatura per scendere. Mi perdo come una cosa impressionante, signori. Cioè, sono qui e mi perdo lo stesso. Cioè, va bene. Il geode, sinceramente, non ho intenzione di perderci più di tanto tempo. Perché non so che cosa ci si può fare con quel geode. Lo possiamo comunque lasciare lì per bellezza. Ora, questo blocco d'oro finalmente lo possiamo recuperare. Con questo bellissimo picconcino in ferro. Recupera. Bello, così, signori. Abbiamo anche l'oro. Ok. Possiamo provare a scendere di qua. E sperare che là sotto ci sia qualcosa. Però io dovrei un attimino... Allora, il geode lo possiamo spostare di qua. Loro lo spostiamo di qua. Queste le mettiamo qui. E così abbiamo un'eventuale seconda fonte di cibo. Cosa mi dice? Che non c'è nulla, però. Proviamo a scendere. Si scende, signori. Già che si scende è tanta roba. Vedo dell'acqua verde. Che cosa brutta? Me la chiudi quest'acqua? Che sinceramente mi può solo dare fastidio. Me la chiudi? Grazie. Gentilissimo. Grazie, grazie. Poteva essere una buona fonte per scendere, ma non ci interessa. Non ci interessa. Scendiamo passettino dopo passettino. La vedo del ferro ed è tanta roba. Ottimo. Mettimi una torcia qui. Dice della redstone che adesso prenderemo perché abbiamo il piccone. Quindi ce lo possiamo permettere. Che cazzo l'abbiamo fatto? Mi devi mettere la torcia? Torcia. Facciamo qualche altra torcia, signori. Il carbone ce l'abbiamo anche se è un po' scarseggia. Ma va bene così. Ok, già sette torce per continuare la nostra spedizione. Vanno più che bene. Recupriamo la redstone che ci serve per fare livelli, signori. Sinceramente io non so fare nulla con la redstone. Che sia chiaro. Chiaro e lampante. Io con la redstone non ci so fare nulla. A parte le decorazioni. Ok. Ok. Lagone di lava. Ok. Ossidiana. E questo è un altro bellissimo passo avanti, signori. L'ossidiana è importantissima. Così se recuperiamo l'ossidiana possiamo farci anche il portale. Del nether. Ma per recuperare il portale del nether dobbiamo avere i diamanti. Cosa che non abbiamo in questo momento. Quindi se non abbiamo i diamanti non possiamo fare. Non possiamo recuperare l'ossidiana. Di conseguenza non possiamo fare il portale. Mero piccolo. Mero leggermente dimenticato di questo particolare. Che senza i diamanti l'ossidiana non la possiamo recuperare. Ok. Occhio alla lava che non ci voglio morire qua, signori. Sinceramente no. Allora ho visto che di là ci sta... Di qua ci sta la lava. Ok. Io voglio evitare di morire. Già sarebbe una cosa buona e giusta. Un lagone di lava. Bene. Abbiamo l'acqua, sì. Allora usiamola no? Perfetto. Ok. E mi sembra una cosa buona e giusta. Mettiamo una torcina per sé e per no. Rompiamo un po' questa zona di qua. Altra lava lì. No che per caso mi fai trovare un diamantozzo. Là c'è del ferro. Che vado a recuperare molto volentieri. Qui signori io metterei altra acqua. E così mettiamo in sicurezza questa zona di qua. Di qua si risale. Ok. Recoveriamo sto ferro di qui. E non mi sembra per niente una cosa sbagliata. Signori il ferro ci serve. Così finalmente possiamo farci un'armatura. E stare più in sicurezza. Di qua si sale. Ok. Di qua invece si va da qualche parte. Mi sa di no. Mi sa che di qua non si va da nessuna parte. C'è questo lago di lava. Ma non c'è nulla. Che che che. A che livello siamo? Tanto per informazioni. Meno 54. Signori qua possiamo trovare diamanti. Poche chiacchiere. Ma di qua noi possiamo trovare diamanti. Mi fai salire un attino. Perché avevo visto che c'erano dei diamantozzi. Là. Qua io però chiuderei. Grazie gentilissimo. Mettere un attimo in sicurezza questa zona di qua. Perfetto. Grazie. Gentilissimo. Qua la lava non sta arrivando. Quindi penso che possiamo un attimino salire. Perfetto. Così andiamo anche in esplorazione da questa parte. Perché gli avevo visti. Il ferro da questa parte l'avevo visto. Quindi recuperiamo. In sicurezza sempre. Mi raccomando. Ho visto dei blocchi di ferro. Di là forse la caverna. Oh no. Era oro. Era oro. Perfetto. E noi lo recuperiamo. Signori l'oro. Come avete scritto nei commenti. Appena poi avremo anche le mele. Nuovamente. Dai nostri alberi. Alla nostra farm di alberi. Ci possiamo fare le mele d'oro. E quelle sono anche quelle importantissime. E quindi. Piano piano stiamo portando avanti vari obiettivi. Signori. Ce li stiamo facendo. Allora di qua. Trovassimo un diamantozzo. Sarebbe l'apoteosi. L'apoteosi sarebbe. Trovassimo un diamantozzo. Di là c'altro oro. Che però. Ora come ora. Non mi serve l'oro. Mi servono i diamanti. Signori. Mi servono i diamanti. I diamantozzi. Di qua risaliamo. Ma a me non mi interessa. Risali signori. A me non mi interessa. Dobbiamo tenerci bassi. Dobbiamo tenerci bassi. Sennò preferisco andare all'esplorazione da quel lato. Preferisco andare all'esplorazione da quel lato. Qua c'è della redstone. Che prendiamo solo per esperienza. Non per altro. Siamo a livello 6 di esperienza. Ed è una cosa molto buona. Scendiamo da questa parte. Senza morire. Ok. Dove era l'altro lavagon di lava? Di qua. Ok. Proviamo a salire signori. Vediamo se. Perché. Vediamo cosa c'è di qua. Vediamo cosa ci nasconde questo. Perfetto. Mi sono lanciato senza volerlo. Però va bene. È strano che non stiamo trovando nemmeno tanti mob. Non ci sono nemmeno tanti mob in giro. Qua ci sta il lagone di lava. Ma oramai. Una volta i diamanti si trovavano vicino ai laghi di lava. Signori. Vicino alle zone. X dei laghi di lava. Adesso non più. Adesso li trovi più in maniera randomica. Randomica. E però. Mi devi far trovare i diamanti in maniera randomica. E non è che possiamo. Sennò sta tutto il tempo qua così. A scavare. Senza trovare nulla. È giusto. Ti dico. Un bel diamantotto. Me lo puoi far trovare. Già siamo a metà del piccone. Sto scavando. Trovassimo un diamantotto. Sarebbe tanta roba. Signori. Bene. Me ne servirebbero tre. Per essere. Per essere. Per essere. Per essere il gioco corretto. Per essere il gioco corretto. Signori. Mi servirebbero almeno tre diamanti. Tre diamanti bellissimi. Col quale potremmo ottenere. Un piccone. Col quale potremmo fare. Recuperare l'ossidiana. E farci il portale. Signori. Ma non vedo assolutamente niente. Allora. Qui c'è un po' di lava ferma. Quindi volendo possiamo. Lanciare l'acqua. Ok. Stiamo attenti che qui non esca. Ok. Non esce. Signori. Perfetto. L'apoteosi. Signori. L'apoteosi. L'apoteosi. E questo video si ferma qui. Vediamo quanti sono. Anzi no. 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 Vi lascio. Vi lascio. Col. 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 Il dubbio e col desiderio. Signori. Abbiamo la copertina. No. Così c'è troppa lava. Abbiamo la copertina. Signori. Abbiamo la copertina. Si riesca a andare indietro. Perfetto. Signori. L'esplorazione sta andando bene. L'esplorazione sta andando bene. Domani vedremo quanti sono. Non è solamente uno. Però vedremo. Vedremo con calma assieme. Detto questo io vi ringrazio. Vi ringrazio per il like. Per i commenti. Per i sugerimenti. E per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani. Per un nuovo episodio. Bella raga. Ciao. Ciao.